Si aggira sui 3 miliardi di euro annui il costo della controriforma previdenziale del governo secondo l'agenzia di stampa ANSA. L'intervento più gravoso riguarda i lavoratori precoci, coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni. Per una platea di 60-67 mila persone il costo regime sarebbe di oltre un miliardo di euro all'anno. Verebbero riconosciuti loro 3-4 mesi di contributi extra per ogni anno lavorato da minorenni. Raddoppiare la platea dei pensionati a cui riconoscere la quattordicesima costerebbe 800 milioni di euro l'anno. I beneficiari, sopra i 64 anni d'età, passerebbero da 1,2 a 2,4 milioni. In alternativa, il governo potrebbe decidere di ampliare la no tax area, ossia i pensionati esenti dal pagamento dell'IRPEF, poco sopra gli 8 mila euro per tutte le età, con un aggravio di 260 milioni di euro l'anno. Il costo dell'APE, l'anticipo pensionistico tramite prestito, varierebbe tra i 6 e i 700 milioni di euro, una spesa destinata soprattutto a coprire le detrazioni per le categorie più svantaggiate come disoccupati. La cosiddetta ricongiunzione gratuita, cioè mettere in fila i contributi versati per la pensione in diverse gestioni, costerebbe 500 milioni a regime. Infine, favorire il pensionamento di chi ha svolto lavori usuranti determinerebbe una spesa di 72 milioni di euro.